Viva, 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 viva Fammi avvisare mia moglie Sì, comunque fai che vinciamo io il mister già Quindi, cioè, Elia e Sgarbi non possono vincere No, Sgarbi è sicuro Sgarbi capisce, tre anni sta qua C'è una testa che lo billo Una spizzica, il maiale, una ruzzola Io ho capito solo che c'è una testa C'è una testa Il billo che è il taccino Il billo che è il taccino C'è una testa di taccino che è spizzio No, c'è una testa che il taccino non la spizzica Il maiale non la mangia Quindi che cosa vuol dire? Una testa Che una testa non funziona Che non la mangia neanche il maiale Che non è buona Ok, 1-0 per noi Lui ne sputa per non bere Significa lui non sputa per non bere Quindi è tirchio È tirchio Quindi questa è Elia Puoi mettere sotto il titolo Elia Tu la sei lunga ma non lo sai accortare La sai lunga non lo sai raccontare No, la sai lunga è furbo È furbo Ha detto Gigino Che è da gigiù Due e gigiù lua Aspetta, ho capito Ha detto Gigino Che è da gigiù De gigiù due e gigiù lua Ha detto Gigino che è da gigi giù Due e gigiù lua Qui non riusciamo a capire la traduzione Che è da G Quindi G è il nome G Che è giù Che deve andare Che deve andare giù Andare Deve andare laggiù dove è andato lui Ma questo è facile Non sei a piombo Ecco i baldoni Questo sei tu Sei a piombo Sei tu O sei normale Ma il tolco di San Costanzo È un cuo L'uvetta È candida Ma il tolco di San Costanzo È un cuo Ma il tolco di San Costanzo Ma il Toclo Ok Il tolco di San Costanzo Sì È con l'uvetta È con i canditi Allora Che il tolco di San Costanzo Sarebbe un dolce Cos'è? Sì È il dolce della pezza È con l'uvetta O con i canditi T'aspetto a Patollo Non è una buona cosa questa No? T'aspetto a Patollo T'aspetto a Patollo Patollo che è in carcere Cos'è? No T'aspetto a Patollo Sputicchia E spencella Ma non Ma non attacca Significa che si origina poco Non attacca Non attacca 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 Ok Natacca Natacca È ok Natacca Tacca Natacca 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 È ok Non è che vorrei mischiare le mani col muso? Non vuoi mischiare le mani col muso? Non vuoi prendere due schiafi? è per questo non riesco a tradurre perché non sa leggere 2 che se gitta vita questa è facile oggetta corciane tu avrebbe e poi un falcino dov'è che si è andata abitari a corciane tu ammonta un po di un falcino ponte felcino io ho finito quasi allora prendete qualcuno questo quando la gialletto di ma questa abbiamo già letto quella pure allora freghi si freghi gimo a riscaldare che se bu la dal freddo se bu dal freddo si muore dal freddo andiamo a riscaldarci che si muore dal freddo ragazze che si è insorcato tutti i calzoni si è sporcato si è sporcato i calzoni ma due veni in girigiola ma dove va in giro ma dove va in giro ma dove va in giro ma dove in giro bisogna capire cos'è in giro è un posto in giro no in giro non lo sappiamo aiutaci però bevi a tonfo butta giù no d'un sorso d'un sorso dalla bocca al al bicchiere dalla bottiglia cos'è al collo della bottiglia nero nè e roma andiamo a roma la sua lista di legge bene nini e roma non è roma esatto quindi quando dici no non è roma è un posto bellissimo quindi no quindi non è a roma quindi non è un questo questo tavolo non è a roma francese tu ci complichi la vita abbiamo finito tutt'una abbiamo sbagliato questo abbiamo fatto tutto buona festa a tutti i perugini buona no no è buona ma fanno il fuoco anche